Ciao a tutti, bentornati nel nostro mondo sommerso, sono Shari. Oggi vogliamo continuare la serie delle guide e proporvi un approfondimento sull'allevamento casalingo dello zoo plant. Insieme scopriremo di cosa si tratta, parleremo delle specie utili in acquario marino, vedremo come allevarlo e perché. Tutto questo, come sempre, dopo la sigla. Come sempre, prima di continuare, se vi piace il lavoro che facciamo, vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale e colpire la campanella degli avvisi. Il vostro supporto per noi è fondamentale e ci dà una grossa mano a crescere, così da potervi proporre contenuti sempre nuovi e di qualità. Grazie mille! Quando parliamo di zoo planton, ci riferiamo alla componente eterotrofa del planton, ovvero tutti quei microscopici animaletti che abitano il substrato e la colonna d'acqua di mari ed oceani terrestri e che, insieme a fito e batteri o planton, vanno a comporre per l'appunto il planton. Le specie da cui è costituito sono un'infinità e non è possibile pensare di elencarle tutte. A livello generale, tuttavia, è fondamentale distinguere le due principali categorie. Il planton pelagico, cioè composto da tutti gli organismi che abitano la colonna d'acqua e quello bentonico, composto invece da animali che vivono prevalentemente sul substrato. Teniamo a mente questi due termini perché ci serviranno dopo. Bene, ora sappiamo di cosa si tratta, ma a che cosa serve? E quali vantaggi può portare la somministrazione in vasca? Beh, se ci seguite lo saprete già sicuramente, perché questo è un tema su cui abbiamo insistito molto. Il planton è alla base della catena alimentare della barriera corallina e gli animali bentonici costituiscono la prima e fondamentale fase nel complesso processo di abbattimento delle sostanze di scarto. In più, dosare zooplantone in acquario contribuisce a migliorare la biodiversità, oltre ovviamente a costituire una gustosa fonte di cibo per pesce coralli. Dobbiamo però ora essere un po' più specifici perché, come detto, il planton è composto da una marea di organismi molto diversi tra loro e non tutti sono utili ai nostri scopi. Vediamo quindi alcune specie che è possibile allevare abbastanza facilmente in casa. I rotiferi sono microscopici organismi appartenenti al regno dei metagioi. Si tratta di organismi pelagici e per questo motivo in acquario non hanno vita lunga, non sono in grado di creare una colonia stabile e sono destinati a finire schiumati o mangiati in poco tempo. Oraci! La somministrazione in vasca quindi ha senso solo quando ve ne sia la reale necessità. Il grande vantaggio offerto da questi invertebrati, infatti, è fornito dalla loro dimensione. Sono estremamente piccoli, circa un quarto dei naupi di Altenia e questo ne fa l'alimento vivo ideale, forse l'unico, per l'alimentazione di larve di pesci, animali particolari come i cavallucci marini, oltre che per tutti gli SPS. Non sono invece adatti, perché troppo piccoli, per l'alimentazione di coralli molli, LPS o pesci adulti. I copepodi sono un vasto gruppo di piccoli crostacili che abitano i fondali e le scogliere marine. Ne esistono di moltissime specie, ma quelle che possiamo trovare comunemente in commercio, a differenza dei rotiferi, sono animali dal comportamento principalmente bentonico, che in acquario sono quindi destinati a sopravvivere e se le condizioni lo permetteranno, a moltiplicarsi fino a formare una colonia stabile, che sarà fonte continua di cibo vivo per i vostri pesci e coralli. Per questo motivo, dosare i copepodi in vasca è utile sempre, persino nella prima fase di maturazione, a condizione che vengano garantite loro le condizioni minime necessarie alla sopravvivenza. La tona dimensione, inoltre, vi rende un alimento adatto sia per pesci ed LPS, nel caso degli esemplari adulti, che per gli SPS, nel caso delle larve. Da segnalare, infine, che il valore nutrizionale dei copepodi è estremamente più alto di quello dei rotiferi e questo li rende uno degli alimenti vivi più pregiati in assoluto. L'ultima delle specie di cui vogliamo parlare brevemente è l'Altemia salina, un piccolo crostaccio tipicamente presente nei grandi laghi salati ed ampiamente utilizzato in acquarioferia come cibo vivo. Come si può capire, anche dalla provenienza, tecnicamente non si tratta di zooplanter, ma abbiamo voluto citarla ugualmente, perché rappresenta uno degli organismi di acqua salata più allevati ed utilizzati come fonte di cibo vivo nel settore acquariofilo. In questo video non tratteremo l'allevamento dell'Altemia, sia perché online si trova moltissimo materiale in proposito, ma anche e soprattutto perché si tratta di una specie davvero di scarso interesse rispetto alle due citate prima. Come erotiferi, infatti, il comportamento dell'Altemia salina è di natura prettamente pelagica e per questo gli esemplari in acquario non sono destinati a sopravvivere a lungo. A differenza dei rotiferi, tuttavia, le artemi sono più grandi e per questo non possono essere usate efficacemente per alimentare SPS o larghi di pesci. Molto bene, abbiamo concluso questa breve panoramica sullo zooplanter. È finalmente giunto il momento di parlare di allevamento. Sia che scegliamo di allevare rotiferi che copepodi, la procedura da seguire è sostanzialmente la stessa, con alcune piccole differenze che citeremo man mano. Per iniziare avremo bisogno ovviamente di un recipiente. Come sempre, dalla sua capacità dipenderà la quantità di raccolto. Quindi scegliete in base alle vostre esigenze. Vi segnaliamo solo che, qualora voleste allevare i copepodi, questi colonizzeranno principalmente il fondo del contenitore e per questo sarà importante sceglierne uno largo e basso piuttosto che stretto e alto. Oltre al contenitore avremo bisogno di acqua salata a 35 ppm. Ovviamente utilizzeremo solo acqua di osmosi e sali per acquai e di uno starter, ovvero un po' di rotiferi o copepodi vini, acquistati in negozio o recuperati da qualche appassionato. Ci serviranno anche un aereatore per mantenere l'acqua in movimento e, se l'avete troppo prezzo, un riscaldatore per mantenere l'acqua ad almeno 22 gradi. L'utilizzo di una fonte di illuminazione, infine, può essere utile perché consentirà lo sviluppo di alghe che andranno a nutrire il nostro zooplantor, ma non è assolutamente obbligatorio. In ultimo, ma non per importanza, avremo bisogno di un alimento adatto. Per i rotiferi è molto semplice. Del semplice pitoplantor, nanocloripsis o tetraselmis andrà benissimo, a patto di averne a disposizione in grandi quantità, magari autoproducendoselo, come abbiamo già spiegato in questo video. Per i copepodi il discorso è più complesso e dipenderà soprattutto dalla varietà del vostro starter. In generale vi suggeriamo di sperimentare con alimenti diversi, valutando di volta in volta la crescita effettiva del numero di esemplari, fino a trovare quello giusto. Alcune alternative valide possono essere pitoplantor vivo di varie specie, spirulina, mangime per pesce in polvere, oppure quello che ha funzionato meglio per noi, il lievito di birra liofilizzato. Il procedimento per apriare la cottura è abbastanza semplice e per certi versi somiglia all'allevamento del pitoplantor. Inizieremo mettendo lo starter nel recipiente di nostra scelta, diluendo con l'acqua salata, fino a raggiungere il volume da noi scelto. Per i nostri allevamenti normalmente utilizziamo circa 4-5 litri di soluzione. Il contenitore andrà poi posizionato in una zona al riparo da sbalzi termici. La temperatura dovrà essere mantenuta in range di circa 21-26 gradi e l'acqua andrà mantenuta in leggero movimento con l'utilizzo dell'areatore, che regoleremo ad un flusso moderato di circa 1-2 bolle al secondo. Giornalmente dovremo poi occuparci di alimentare la cottura. Per un volume di 4 litri noi dosiamo circa 200 ml di pitoplantor al giorno. Oppure, nel caso dei pipevoli, un pizzico di lievito in polvere. In ogni caso dovremo regolare la quantità di cibo in modo da creare una leggera torbidità dell'acqua, che dovrà poi sparire nel giro circa di 24 ore, prima della somministrazione successiva. Quando la cottura avrà raggiunto una densità soddisfacente, potremo procedere alla raccolta. Non è possibile dare un'indicazione precisa del tempo richiesto, ma dovendo dare un'indicazione di massima, potremmo dire che, nel caso dei rotiferi, anche solo una settimana potrebbe essere sufficiente. Mentre nel caso dei copevoli, a causa del ciclo vitale estremamente più lungo di questi animali, potrebbe essere necessario anche più di un mese, prima di poter iniziare a raccogliere regolarmente una quantità sufficiente di esemplari. Per la raccolta dovremo utilizzare un setaccio di dimensioni adatte, circa 180 micron per i rotiferi, 90-100 micron per i copevoli. Con cui procederemo a filtrare la metà del liquido di cottura. Nel nostro caso, due litri di liquido ci forniscono una quantità di rotiferi o copevoli sufficienti per le esigenze del nostro tubo da 200 litri. Infine, dopo la raccolta, non ci rimarrà che rabboccare la cottura con acqua salata nuova, in quantità uguale a quella prelevata, e continuare ad alimentare normalmente fino al momento del raccolto successivo. E questo era tutto. In effetti, come abbiamo visto, allevare zooplanton è molto semplice, basta solo la voglia di farlo. E voi? Ci avete mai provato? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti. Come sempre, speriamo che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Io vi do appuntamento tra due settimane con un nuovo video. Un salutone a tutti da Shari. Ciao! Oggi vogliamo continuare la serie delle vide. Eccovi, ma porca paletta! Il vostro... Ragazzi, non mi piace per niente come sto parlando. Eh, non riesco. Non importa. Non importa, va bene tutto. Ma lo schifo. Vai, dimmi, dimmi. Questo video. Ah! E tra 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 tra. Eh, ma tu mi saboti così. Saboti. 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 No. No, saboti. E questo era tutto. In effetti, come... In effetti. In effetti. Come sempre, speriamo che il video vi sia piaciuto. No, dai, per prima ero molto più felice. Eh, allora più felice. Era la felicità. Eh, ma non è facile. Ah. Ma il pubblico ti capisce? No, ma il pubblico non mi capisce. È per questo che piangerò stasera. Ok.